Ultima giornata di mercato che si preannuncia ricca di sorprese per il Pescara. In Casa Bianca Azzura potrebbe infatti profilarsi il clamoroso ritorno di Antonino Ragusa dal Genoa. Il centrocampista siciliano dovrebbe rientrare in Abruzzo in base ad un accordo fra le due società. Questo significherebbe che in prota resterebbe con i grifoni e che ci potrebbe essere anche qualche partenza illustre e imprevista dal Delfino. Baroni sarebbe bel lieto di accogliere Ragusa ma poi si aprirebbe un problema relativo alla sovrabbondanza di attaccanti esterni in organico. Per l'attacco detto di in prota si punta a cedere Ferdinando Sforzini. Il Latina in pole position poi seguono Vicenza e Catania. Al Pescara piace anche Luca Garritano del Cesena. Il polacco Paweł Wozzeck, 22enne, è invece un pallino del direttore sportivo Peppino Pavone. Per la difesa dopo la partenza di Delfabro si cerca un difensore centrale di spessore. Izzo è la prima scelta ma il Genoa resiste. Bartosz Salamon, polacco della Sampdoria, una possibilità. Rea del Varese è invece più lontano. Di certo però arriverà un difensore. Si è pensato anche ad un altro ritorno, quello di Christian Terlizzi, che prima di Pescara-Trapani si è incontrato con i dirigenti biancazzurri. L'esperto centrale sarebbe felice di tornare in Lival Adriatico, ma è un'ipotesi difficile anche perché la società siciliana vuole puntare i piedi. Ancora poche ore il mercato chiuderà. Fra le sorprese di questo avvio di stagione c'è l'ex difensore del Siena Grillo. Sta a me a dimostrare partita dopo partita di crescere di condizione, perché è quello che è il mio obiettivo, crescere di condizione attualmente. Un po' dispiaciuti perché abbiamo fatto comunque una buona gara, però penso che quando una squadra non subisce gol vuol direi che si lavora benissimo davanti. Quindi tre attaccanti e tre centrocampisti ci hanno dato molto, hanno lavorato molto bene sulle traiettorie e noi di conseguenza ci siamo mossi. Quindi penso che quando una squadra fa bene dietro è tutti gli unici. Abbiamo ancora tanto tempo, tanti mesi per andare a migliorarci. Quindi penso e spero che questo sia un punto di partenza, perché è un punto di partenza. Grillo, parlando della difesa, insomma questa sera le cose sono andate bene. Grillo in questa difesa, tra l'altro una difesa nuova inedita, come si è trovato? Io bene, bene, mi sono trovato bene, sono due settimane che sono qui, ho trovato subito dei compagni disponibili, dei ragazzi intelligenti che seguono quello che dice l'allenatore. Quindi quando trovi dei ragazzi intelligenti, educati, penso che fa solamente che piacere. Mi sono trovato bene, spero di migliorare perché non è questo il nostro punto di arrivo.